Allora il naso non è una L rovescia, non è due buchi e basta, è una struttura architettonica, cioè c'ha una parte superiore, vediamolo un attimo dal basso, si collega all'attaccatura con questo, c'ha una parte superiore dritta, qualcuno dice che qui c'è anche una pallina di grasso, però fondamentalmente semplifichiamolo al massimo, poi c'ha un davanti dove poi noi andremo a individuare le altre parti e qui cala il naso a una struttura del genere, questa è l'arcata sopraccigliare, qui ci possiamo posizionare gli occhi, da quest'altra parte siccome avendolo così qui sarà di meno e qui vedo, l'altro occhio lo vedo qui. Questa cosa che ti sto disegnando serve ad evitare di fare un errore classico che fanno tutti.